amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale dopo tanto tempo benvenuti in questo nuovo video ragazzi come state mi mancate tantissimo vi vorrei abbracciare anche se fisicamente non si può lo faccio virtualmente un saluto a tutti i miei iscritti mi mancate tantissimo allora ragazzi sto facendo questo video perché ci sono ancora dei campionati attivi io ho preso un po di informazione sui campionati c'è nicaragua c'è bielorussia sono questi due campionati che sto seguendo di più devo dire che sono riuscito ho fatto una schedina di prova intanto c'è willy dietro che salutiamo e ho fatto una schedina di prova domenica ed è andata bene perché l'ho vinta ok ora vorrei proporvi vorrei proporvi una schedina per quanto riguarda il campionato bielorusso sono passate cinque giornate quindi ho avuto modo di raccogliere qualche dato sulle squadre non sono tantissimi però quanto bastano per fare una schedina da proporvi che inizia con la seguente partita tanto a noi non ci interessa che sia inter milan certo le conosciamo le conosciamo di più perché il nostro campionato però fondamentalmente una volta che abbiamo i dati delle squadre poi possiamo provare a fare delle schedine intanto per passare il tempo per divertirci senza giocare chissà quelle cifre esorbitanti ma partiamo con smolovecchi dinamo minsk allora sono smolovecchi è penultimo in classifica no la dinamo minsk invece è dodicesima poco più su direi che sono due squadre abbastanza appaiate in classifica però e qua ci potrebbe stare un gol ospite che ha una quota di 1 e 40 quindi una quota abbastanza interessante allora la seconda partita è neman grodno energetic minsk sono rispettivamente quattordicesima e quarta in classifica le quote sono abbastanza equilibrate nonostante ciò e direi che anche qui potremmo giocare magari non una fissa ma un over 1 e mezzo che ha un'ottima quota anche questo di 1 e 40 poi slavia mosir fc minsk qua per questa partita ho selezionato una doppia chance perché è una partita veramente dalle quote abbastanza incerte l'1 2 paga quota 1 e 33 gorodeia bate borisov beh bate borisov è una squadra già più conosciuta a livello internazionale talvolta partecipa anche alle competizioni europee è capitato che facesse la champions league a volte fa l'europa league quindi una squadra che già nei nostri scenari è conosciuta tanto che è favorita in questa partita è data a 1 e 60 quindi qua mi piacerebbe giocare il 2 dinamo brest shaktar soligorsk per questa partita ho selezionato una doppia chance 1x dinamo brest leggermente leggermente avvantaggiati in classifica poi tra l'altro gioca in casa quindi ho messo l'1x poi slatsk belcina 1 torpedo rubrest anche il torpedo per i più appassionati di calcio è una squadra proprio non sconosciutissima diciamo tra le sconosciute insieme al bate borisov forse è una di quelle che sentiamo più nominare favorita per questa partita ho giocato l'1 abbiamo poi islok vitebsk che è una partita molto interessante tra due squadre di alta classifica direi che qua potrebbe starci siccome le quote sono molto equilibrate sono passate poche partite il gol allora ragazzi mi raccomando come sempre i consigli sono sempre gli stessi non giocate tutte le partite insieme questo vale per la serie a ma vale anche per il campionato bielorusso magari scegliete 4 5 partite quelle che vi piacciono di più scommettete una cifra non grandissima perché tanto siamo qui per giocare per vincere anche ovviamente ma senza senza proprio svenarci senza strafare perché sennò poi li diventa un problema io vi saluto iscrivetevi al canale se ci saranno comunque dei riscontri positivi andrò avanti con questo con questo campionato ciao a tutti